buonasera ciao sei arrivato bravo a trovarmi un regalino per la nonna davvero regalino questo maglioncino in versione natalizia siamo pronti io sono sempre pronta allora facciamo un pezzo alla volta così non facciamo accadere nulla ok è un elfo è un coso di natale vendere su quello di natale l'alberello che bello che bello sono tutti due uguali che belli no uno è uomo e donna una i pappelli larghi una barba ecco guarda come è fatta bene o che bella che bella fatta bene guarda come sei natalizia con amore ma sta gente lavora però tutti lavorano mamma mia ma che belli ma che belli adesso tiro pure questa morsettina qui dopo la guardiamo perché quella lì perché quella lì era sotto mamma come più santi aiuto no questo era il naso mi sa era il suo nasino ah no era la ghirlanda della ghirlanda non si fa niente questo sai cos'è no c'è scritto c'è scritto è una borsa dell'acqua calda elettrica ah brava questo non c'è ma io non ho mai visto tutte queste cose mai 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 in vita mia ho visto queste cose mamma mia mamma mia ma ci pensano sta gente ci pensano ma che bella perché sa che ci sono fredda ma guarda dopo me la fai vedere come si fa questa la riempi d'acqua poi la scaldi e ti tiene caldo sul sul divano o nel letto e si perché guarda c'è dentro da attaccare guarda c'è per scaldare ma guarda cos'è che c'è su da dove sono un cagnolino e un gattino ma guarda ma quante cose che io non ho mai mai visto in vita mia ma guarda ma ci pensano ma mi vogliono veramente bene sta gente mi vuole veramente veramente bene adesso prendo questa piano 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 cosa c'è dentro qui ma che belle ma che belle io io amo aprire i pacchettini amo aprire i pacchettini io amo aprire i pacchettini ma che bello ma che bello ma che bello ma però sono bravi stagini ma come sono bravi ma ci pensano questo qui questo qui ah questo hai già capito no 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 ma che bello oh ma due cose anche una stella oh guarda guarda tutto da appendere ma che bello ma che bello ma quante cose mi ha mandato mamma mia c'è scritto nonna e aspetta sei una meravigliosa sei una meraviglia ti voglio bene ti voglio bene ma io anch'io ti voglio bene oh e beh un cappello un cappello stavolta non ti dico come metterlo perché sennò sbaglio come lo metti va bene no no guarda questo qui va bene così ferma eh forse ci vedi poco questo qui è proprio comodo questo qui bello grande perché io sembro piccola ma ho una taglia grande sia di scarpe sia di io porto sempre tutte le tutte le lenta roba che mi ha mandato questo signor questo qui non l'avevo mai mai vista ma neanche neanche sti ma che belli ma che belli ma che belli ma che belli da mettere su eh lui c'ha la barba e lei c'ha le trecce ma guarda com'è bello ma come sono belli ma come sono e poi la coroncina ma guarda che bello ma che belli grazie 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 questo non l'ho proprio mai mai visto mai eh sempre qui in casa da sola via no con il mio Davide ma guarda che belli ma grazie 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 quanti me ne hai mandati poi ma com'è caldo ma com'è bello ma com'è bello grandi ma com'è bello grazie grazie ti voglio bene ti voglio bene io ti abbraccierei forte 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 adesso ti leggo tutta la letterina davvero c'è una bella letterina ma sono contenta sono felice felice ma guarda quante quante cose ma ma che bello ma che bello c'è anche da mettere dentro la spina hai la ragione mettiamola lì